Musica Ciao ragazzi come benvenuti in questo nuovo video di minecraft Ci vediamo oggi finalmente in compagnia del buon Tirloss Hola Mi raccomando ragazzi di lasciare un commento iscrivetevi al canale se non lo avete fatto Perché sto notando che magari molti di voi guardano video senza essere iscritti al canale Quindi magari iscriviti qua su c'è il tasto rosso, iscriviti Passate anche al buon Tirloss in descrizione C'è anche il canale di Naruto ragazzi perché in pratica si trova nel villaggio della foglia E noi l'abbiamo raccolto e è diventato un albero Qualcosa da dire dopo questa intro No sto cercando se trovo RealNaruninja su YouTube Che cazzo si viene via Tirloss iniziamo Guarda c'è un uomo con i capelli verdi C'è un uomo con i capelli verdi C'è un uomo guarda c'è uno con i capelli verdi Dopo lo vedrò vediamo Tanto arriverò per primo No ma l'auto jump no eh Ah c'è un 1.10 Porca puttana Ma non si entra su Ma non solo su un 1.10 Marco C'è anche la moda della pixel Ah top C'è quindi i pokemon in gravity Tutto mica quanto clickbait sta cosa uomo Cioè ma me lo vuoi dire per favore Ma ringraziami che ti ho fatto il titolo Madonna mi hai fatto il titolo del video Cioè Mamma mia Mamma mia Ti farei quasi vincere ma sono già al 3 Tu sei già al 3 Eh sì Hai fatto anche catacombs Eh già Anche io Ti è andata male eh Perché sono già al quarto No l'ho appena fatto catacombs Sono già al quarto No ma non vale Io ho passato il tempo Volevi eh Volevi arrivare prima di me E invece no Non c'è Ho vinto questa mappa Perché sono all'ultimo Tirloss Tirloss Sono al quarto Finito tear Adesso muoli Sì 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 Adesso adesso ti crasha lecto Oh 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 Leggi il primo Ah Tirloss Ti ricordo che l'льgo motivo per cui sono ancora il quarto Che ho appena fatto è perché Ho perso tempo a sistemarmi le opzioni Coglione entri col cos'è la pizza I mon Volevi Questi sono dettagli che uno può che sorvolare, ok? No, schifo umano! Grande tier, guarda, dove sei? Grande tier! No, c'è pixel! Pixel qual è? Qua lì con la spada? Io so farla pixel! Però qua c'è una serie di mappe che è molto difficile, eh! Le catacombs, come la puoi shotare al primo colpo, poi ci puoi rimettere la partita! Marco, stai laggando come lo schifo! Ma seriamente? Ma è strano, perché io vedo tutti quanti fluidissimi! Che sbatti! Quindi tu mi senti A-U-I-O Ma in quello che caso arriverò prima di te, tierlos! Ma no, questa qua non sono capace a farla! Ah sì! Qua c'è il bug! Merda! Qua c'è il bug! Qua c'è il bug, me lo so ricordato! Sacco di merda che non sei altro! Ma io non l'ho fatta! Marco, lei ha... Hai provato a cittartela, eh! Sacco di schifo! Ok! Stacche, tu ne sei passate, io no! Io continuo a sbagliarla! Ma perché il porco... Ok, di qua! Amen, bip! Allora, pixel è di qua! Poi lo centri questo! Poi vai di qua! E lo fa anche pixel! Ah, quindi non riesco a fare... Non riesco a fare... Non riesci a farla tua? Non riesco a fare royal, no? Cioè, tu mi hai insegnato a farla, ti rendi conto? Sì! Aspetta, allora... Uno... Prima bisogna andare di qua... Poi di qua... Poi di qua... Poi di... Fatta anche questa! Sono al quarto! Sono al quarto! Come sei? Come hai già fatto pixel? Sono al quarto! Ho fatto... Io pixel la so fare! È catacombs il mio problema! Che sono capace a farla, ma... Se mi... Ci fermo troppo per un bordello... Eh... Catacombs, io ci... È una rovina per me a catacombs! Allora, qua... Eh... Di qua... Poi si va... Sì! Sì! No! No! Ok, ok, ok! Più o meno so come farlo, allora... Di qua... Ok... Fatta! Fatta catacombs! Pff! Sì! Sì! Sì va verso il quinto! Sì va verso il quinto, Tirlos! Che arachnofobia... Di qua... No! Ma arachnofobia è facilissima, Marco! Sì, eh... Devi prendere il primo blocco giusto, però, con arachnofobia! Quindi si va di qua... Poi di qua... No! Eh... Minchia! Non posso perdere qua adesso, eh! Calma! Sì! Fa anche questa! Dovevi portare! No! C'è qualcuno dietro di me! C'è qualcuno dietro di me? No! Non c'è nessuno, Tirlos! Non c'è nessuno! Guarda che è il primo per la seconda parita di fila, Tirlos! La cancellarla questa, Marco! No, Tirlos! Non la cancello! Perché tu... È una schifo! Ma io non sto facendo niente, capisci? Non c'è neanche il combattimento! Che dico che c'è? Ti sta arrendendo piano a piano, eh, Tirlos! Ma porco... Gianduiotto! Dio! Gianduiotto! Sarà una serie di por... Gianduiotto! Bitto! Posso... Ah! Gesù! Gianduiotto! 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 Sì! Dio! Gianduiotto! Porco! Gianduiotto! Scusa per tutte... Raga, scusate per le bestiemi, scusate credenti, mi spiace per voi! Dai, Tiario, credente, può arrivare secondo in questa madre di deficienti che non è capace a fare una mappa di... Ma porco, due, dai! Oh, perché due? Fra! Scusa, por... Gianduiotto! Ecco, grazie! Porco Gianduiotto! No, perché stai dicendo Gianduiotto! Gianduiotto! E niente, ma è arrivato! No, Tiar, ma è arrivato no, però, eh! Tiar! Tiar! Sono nella pozza di arachnofobia! Allora, buon Tiarlos, terza partita, Grav 21, ha intenzione di vincerla e di arrivare... Oh! Ci si prova! Direi qualche altro Gianduiotto! Dimmi te! Ci si prova! Eh, Gianduiotto! Meglio balzarli, Gianduiotti! Oddio, che bella quella minimappa! Cazzo! Potrei... Che c'è nel pacchetto di mod della Pixel 1? Che leso! È fighissima la minimappa! Ehi, ci credo che è figa! Cioè, però non puoi giocare alla Pixel 1 con la cosa della Pixel 1! Oh, dopo devo registrare la Pixel 1! Dammi... Aia, spoiler! Aia, 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 aia! Vabbè! Gianduiotto! Gianduiotto! Dai, io la tengo! Bastardo, io la tengo! Ma con tutte le bestemmie che ho tirato prima... Lugozzi! Allora, di qua... Ho fatto secondo, Tiar, sono dietro di te! Sono dietro di te, Tiarlos! Sono dietro di te! Sono dietro di te! Questo qua tu inciampi? No, cazzo, non sei inciampato, che sbatti! Qua, sono davanti a Tiarlos! Sono davanti a Tiarlos! Vai, B-Ring! Sì, che ha failato Marco il B-Ring! Sì, che ha failato B-Ring! Sì, che ha failato B-Ring! Sono dietro di te, eh! Non è che non credere, frate, eh! Tu lo faili! No, non ci credo! Sì! No, tu sei un bastardo, eh! Tu sei proprio... Ciao, Marco! Tanto ti venga a prendere dopo! Non è che... Non credere! No, non posso failare quello dopo, però! Dai, è più facile! No, e sono caduto ancora! Ciao, Marco! Ho fatto un quarto, io! No, non è vero! Non l'hai fatto! Sì, l'ho fatto! L'ho fatto! Non l'hai fatto, cane cane! Anche se... Io adesso sto cercando di guardare la minimappa alla mia destra! Tipo, mi fotte il cervello la minimappa! Perché, scusa? È bellissimo! Cioè, che effetto psichedelico ti fa? No, ma è figo perché ci sono... Vedi, la mappa dall'alto è da una figata assurda! Ho fatto quattro! Eh, Marco! Non l'hai fatto! Ops! Ma vai te! Ma guarda te! Ti ho dato a culo che mi sono bloccato di sub-B-Ring due volte! Caino! Vabbè! Allora... Quanti fail fai... Quanti fail farai su questa... Finita! Mappa! Ok, a questo punto! Ti sta bene! Se non ti fossi impallato avresti vinto! Merdina! Sei impallato, quindi fai cagare! Sì, sì! Bla 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 bla! Dai, facemmo in una quarta! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Bravo, Tearlos! Sono famosa solo perché sto con Brackham! Ma come, Fra? Questa cosa mi ha distrutturato un attimino! Allora, questa qua si va di qua, poi tac! No, mannaggia quel pezzo di vetro di merda! Pezzo di vetro o pezzo di... È un pezzo di vetro, Tearlos! Ok, fatto, fatto, fatto! Fatta, l'ho fatta, l'ho fatta! Sono qua! Sono qua! Andiamo! Sono un passo dietro di te, Marco! Ok! Sono letteralmente un passo dietro di te! Ok, di qua! Sì, però non può metterci di più a me a caricare la cacchio di... Eh! ...di mappa! Fibra, Tearlos! Ok, fatto, fatto anche il secondo! Come ho fatto il secondo? Ho fatto il secondo, Tearlos! L'hai sentita bene, sta parola, ho fatto anche il secondo! Tear, sappi che ti sto per spaccare il culo! Andrea, ho fatto anche il terzo! Andre? Andre? Non ti sento? Non sento quella voce? Ho fatto anche il quarto, Tear! Io ho fatto gli otto! Ok, 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 ci siamo! Ci siamo, Tear! Non ti ho capito! Tant'hai perso! Perché ho perso? Pucca è già arrivata! Ma sti cazzi, è una guerra contro di te, Tear? Basta! Allora ho quit! No, dai, Tear, non ho quittare! Perché ho fatto anche... No, non ho fatto la 5, no! L'ho filata la 5! Non riesco a fare il secondo! No, 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 no! Sto filando troppo la 5! No, no, sto filando troppo la 5, Fra! Ok, ho fatto il secondo! No, sto filando troppo la 5, tu non hai capito questo! Ok? Di qua? Sì! No, non è vero che avevo preso quel pezzo di merda di vetro! Ancora? Tear, dove sei? Al terzo, ve l'ha fatto! Ho fatto la 5! Ah, svegna! Guarda il tuo, cosa hai vinto! Tearless, è scarso! Ah, ma proprio dopo il danno anche la beffa, perché eri proprio dietro di me! Complimenti, Tear! Oh, sì, mi piace stare dietro di te! Hai perso un sacco di merda! Va bene, tanto sono dietro di te e sei tu che stai a prendere le cure che sono davanti! Bene ragazzi, per questo video di mi racconta, spero che vi sia piaciuto! Vi invito a lasciare un like, al commento e a iscrivervi al canale se voletevi fatto, passate il canale e il buon tiro in descrizione perché è uscita anche la Pixamon sul suo canale! Noi ci vediamo in un prossimo video! Da Mark è tutto, da Bontir, da Rian, Naruninja è tutto! Ah, Gianduiotto! Bravo, Tear! Pensavo che ti fossi bloccato perché ti avevo mandato un messaggio su TS! Cosa mi hai scritto? Ti ho mandato il canale di Narunja! Bella! Ciao, ciao!